Cari amici buongiorno e bentornati dalle vacanze. Io sono tornato veleggiando e sono stato assolutamente contento di verificare una cosa importante per il Polo Tecnologico di Pordenone, per il nostro territorio, per i nostri clienti e cioè le imprese. Da tempo sapete che il Polo ha focalizzato le proprie esperienze, competenze e attività per aiutare le PMI ma non solo, aziende del territorio manifatturiere ma non solo, nella trasformazione digitale. Dietro la trasformazione digitale c'è quel meraviglioso piano calenda Industrie 4.0 del quale molte aziende hanno beneficiato cavalcando crediti di imposta, iperammortamenti, superammortamenti. Abbiamo 4 mesi circa per finalizzare nuove attività sull'anno fiscale 2018. L'anno scorso molti miei amici mi hanno fatto fare delle vacanze natalizie un pochino concitate perché il 31-12 anche a seguito delle circolari del Ministero abbiamo raffinato le perizie, i crediti di imposta ed altro. Il mio messaggio è ricordiamoci che il Polo è il primo parco tecnologico certificato attraverso Union Camere dal Ministero dello sviluppo economico per il trasferimento tecnologico Industrie 4.0. Avevamo dato questa notizia attraverso il nostro Presidente poco prima delle vacanze e ci tengo a rimarcarlo. Quindi il Polo certificato per tutte le attività legate a Industrie 4.0 e la gran parte delle tecnologie, dalle stampanti 3D, all'Internet of Things, all'Interconnessione. Abbiamo una rete importante di partner e tra questi naturalmente la più grande riconosciuta come Digital Innovation Hub del territorio, la DX, nella quale accanto al Polo altri importanti soci sono l'Unione Industriale, la LEF, l'Ordine degli Ingegneri e quindi una confluenza di competenze per aiutarvi a beneficiare di agevolazioni fiscali, di orientamento alla trasformazione digitale, mi riferisco alla bussola digitale appunto. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, quattro mesi per fare le cose bene. Qualcuno di voi mi chiamerà anche verso la festa dell'Immacolata, però poi facciamo fatica a recuperare i tempi a fare le cose fatte bene. Quindi per certificazioni prodotto, per credito d'imposta, per perizie, per orientamento nella trasformazione digitale, guardateci e informateci attraverso il sito, ma telefonatemi tranquillamente, siamo al vostro servizio. Buon rientro dalle vacanze e ready to go, presto e bene. Ciao!